Organizzazioni non profit e ONG. Le organizzazioni non profit sono delle organizzazioni, avente struttura giuridica definita, che hanno, che non hanno come fine il profitto. Nel diritto italiano sono possibili cinque tipologie di associazioni non profit, ovvero le organizzazioni non governative, appunto le ONG, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni ex bancarie e le associazioni di promozione sociale. In particolare le ONG, le organizzazioni non governative, sono appunto associazioni non profit che svolgono una propria attività in un determinato paese che è scissa dal paese di origine. Spesso le ONG sono associate appunto con enti di volontariato, appunto non aventi scopo di lucro, che operano in paesi in cui esistono delle emergenze sanitarie, in cui esistono delle guerre eppur appartenendo giuridicamente ad uno stato di provenienza non svolgono attività legate appunto allo stato di provenienza.